Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi quanto scriveva Padre Pio attraverso l'epistolario, il volume numero 3 dedicato ai figli spirituali, quanto scriveva da San Giovanni Rotondo perché siamo nel 1918, quindi era già accaduto quello che i teologi chiamano l'assalto del Serafino, ovvero la trasverberazione, una lancia che gli ha trapassato il cuore. Ecco la trasverberazione che poi andrà a completare questo aspetto della vita di Padre Pio con la stimmatizzazione del settembre del 1918, ecco Padre Pio scrive ad una sua figlia spirituali che oggi possiamo dire è la prima figlia spirituale di Padre Pio diventata beata, Maria Gargani, sta pur rassegnata e possibilmente tranquilla alle assicurazioni delle autorità, soffri ma la tua sofferenza si era rassegnata in modo da poter dire col profeta nella pace la mia amarezza è amarissima perché la sofferenza è voluta da chi vuole rendermi simile al suo onigenito, quindi soffri ma non temere perché chi ti tiene distesa sulla croce ti ama e va allitando la forza per sostenere il martirio insostenibile e amore per amare amaramente l'amore, soffri ma vedi che Gesù stesso soffre in te e per te affin di associarti nella salute delle anime. Gesù, scrive Padre Pio a Maria Gargani, non ti ha abbandonato, non ti abbandonerà, non è la giustizia ma l'amore crocifisso che ti crocifigge e ti vuole associare alle sue pene amarissime senza conforto e senza altro sostegno che quello delle ansie desolate. Ecco la verità ed è questa solo la verità, nelle ore della prova non ti affannare figliola mia a cercare Dio, non credere che egli sia andato lontano da te, egli è dentro di te, anche allora in un modo assai più intimo egli è con te nei tuoi gemiti, nelle tue ricerche simile ad una madre che spinge il figliolino a cercarla mentre essa è dietro ed è con le sue mani che lo costringe a raggiungerla in vano. Grazie per la visione!